Ogni artista ama la propria opera, la creatura del proprio spirito, ma quanto più ama il proprio figlio un padre. Nel figlio egli vede un altro se stesso. Per il figlio egli vive e si sacrifica senza rimpianti. Così come opera delle sue mani, Dio ci ama e si prende cura di noi perennemente. Ma di quale amore tenere e profondo Dio ama noi, che siamo sole sue creature, ma anche suoi figli? E commovendo come Gesù, il quale ci ha procurato la divina adozione e ci ha dato suo padre per padre, si sforza di tratteggiarci un quadro vivo e toccante dell'amore paterno di Dio. Il padre si prende cura di tutto, vesti i fiori del campo, i gigli del campo, la creazione opera di Dio che è creatore e padre di tutta la creazione e gioisce a vederne il suo sviluppo e direi con un'immagine umana, piange quando l'uomo distrugge la creazione. Basta pensare alla terra dei fuochi, a tante distruzioni portate dall'uomo. Bene, dove di più però l'amore di Dio si manifesta? Si manifesta nel condurci per mano, per prenderci per mano e non farci sbagliare. Nel Vancello c'è una parabola meravigliosa, bellissima, la parabola del figlio prodigo. Penso che sia il capolavoro della creazione di Gesù, delle sue parabole. C'è il figlio che vive in casa, è un pochettino moderno, un pochettino bizzarro, lavorare poco e divertirsi molto. E poi arriva a dire al papà che vuole l'eredità che gli spetta come figlio. E che deve fare? Me la porto, ho la vendo, eccetera, voglio andare via di casa. È troppo opprimente vivere qui in questa casa. E il padre divide la proprietà, la dà a questo figlio e con le lacrime agli occhi saluta il figlio. Il figlio va giulivo, allegro, contento. È un uccello libero per godere la vita. È il padre sulla soglia della porta di casa che lo guarda e piange. Piance un figlio che si allontana da sé. È un po' la storia di un po' tutti noi peccatori. E andando lontano spreca o consuma tutti i beni e poi rimane senza nulla. Ha perso anche gli amici, ha perso anche le amiche. Non c'è più il foraggio e quindi ognuno ha preso altra strada. E lui che cosa deve fare? Tornare alla casa del padre? Ah no. E quindi chiede lavoro. E che lavoro gli potevano dare? Fare il porcaio, l'umiliazione più grande che poteva avere un ebreo, allevare e custodire i maiali. E questo giovane si mette a fare la guardia ai maiali. Aveva fame e doveva rubare le carrube agli maiali. E poi, ma a casa mia ci sono tanti lavoratori, tanti servi e mio padre li tratta bene. Ritornerò da mio padre. Dirò, ho sbagliato. Non considerarmi più tuo figlio, ma trattimi come un operario. Questo è stato l'insulto più grande che Gesù mette nella parabola. Di fatti il padre lo aspetta e quando vede il suo figlio che sta ritornando, gli corri incontro, i figli si incinocchia, il padre lo alza, lo abbraccia e grida subito ai servi, prendete il vestito nuovo, mettete l'anello al dito, segno della padronanza, di essere un uomo libero. E così Dio fa per ciascuno di noi. Non guarda i peccati, si dimentica dei nostri peccati. Se noi abbiamo la capacità di ritornare alla casa del padre e ci rimette indignità. Se noi dovessimo domandare a Dio quali sono i miei peccati e Dio dirà ma io non me li ricordo, mica li posso tenere a registro. Tu sei mio figlio. Ecco allora la capacità dell'amore del padre che ci salva perché è veramente padre. Un amore forte che si verifica nel corso della nostra vita. Certo noi vorremmo che Dio intervenisse in tutte le cose dolorose della nostra vita. Vorremmo che a una semplice preghiera facesse uscire gli esami clinici in un modo accogliente che scomparissero le varie difficoltà economiche, si avesse subito il posto di lavoro. Cioè un tio che è un po' manager. Ma no, non è così. Dio è amore che vuole anche una certa realizzazione sulla terra da parte dell'uomo ma sono le qualità che Dio ha dato all'uomo che si deve autogestire e lui dall'alto benedice e consagra. Ecco allora l'amore di Dio diventato concreto nella nostra vita quotidiana. Padre io mi abbandono a te, fai di me ciò che ti piacerà. Qualunque cosa tu faccia di me io ti ringrazio. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto l'anima mia nelle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore perché ti amo, perché è per me un bisogno d'amore il donarmi a te, il rimettermi nelle tue mani con una confidenza infinita, perché tu sei mio padre.